E' fermo a Villa San Giovanni da lunedì scorso, bloccato sullo stretto perché senza il superpass non gli è consentito di salire sul traghetto. Lui, Fabio Messina, agente di commercio di Palermo e tra i fondatori del movimento anti-racket Dio Pizzo, ha scelto, così come la moglie, di non vaccinarsi e dunque, dall'entrata in vigore delle nuove norme, non può prendere mezzi di trasporto pubblico. Dopo aver dormito in un sacco a pelo nelle piazzone degli imbarcaderi a Messina, la scorsa notte è stato ospitato da una famiglia di Villa San Giovanni. Queste gentili persone, di fatto, dice, mi hanno tolto alla strada. Lo Stato non mi dà nemmeno la possibilità di andare in albergo perché anche lì mi chiederebbero il Green Pass. La dignità umana così finisce sotto i piedi. Con l'assistenza, l'avvocato Grazia Cutrino del Foro di Trapani ha presentato ricorso d'urgenza al Tribunale di Reggio Calabria per chiedere che venga annullato il divieto di imbarco e mi sia consentito di andare in Sicilia. Non c'è solo l'imprenditore Fabio Messina. C'è chi è rimasto imbrigliato nelle maglie della burocrazia. Da lunedì un ragazzo di 19 anni, Daniele Ventivegna di Palermo, è bloccato anche lui, però a Napoli. Domenica scorsa, a causa del mare mosso, non è potuto rientrare in Sicilia con il traghetto. Da lunedì, invece, racconta la famiglia Palermo Today, con l'entrata in vigore del Super Green Pass, non lo fanno più imbarcare. I suoi genitori sono disperati. Daniele, affetto da una forma di epilessia, nessuna istituzione ha mosso un dito per lui, lasciando la famiglia nella più profonda disperazione. Certo che se fosse stato catturato e preso in ostaggio all'Isis, commenta amaramente la famiglia, magari qualcuno si sarebbe mosso. Scrivono i familiari una lettera aperta che adesso chiedono un pronto intervento.